Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ame. Cari amici, leggiamo e commentiamo brevemente il messaggio dell'Argina della Pace dato attraverso Maria di Meciugorie il 25 novembre del 2019. Cari figli, questo tempo sia per voi il tempo della preghiera. Senza Dio non avete la pace. Perciò figlioli, pregate per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie affinché Gesù possa nascere in voi e darvi il suo amore e la sua benedizione. Il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia. Figlioli, l'inquietudine si vede negli occhi perché non avete permesso a Gesù di nascere nella vostra vita. cercatelo, pregate e Lui si donerà a voi nel bambino che è gioia e pace. Io sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari amici, come vedete il messaggio dell'Argina della Pace è tutto improntato sul tempo di avvento e sulla preparazione al Natale e in un certo senso possiamo dire che la Madonna non fa che ripetere quello che ha sempre detto ma che oggi ha un valore particolare nel tempo nel quale viviamo in cui quasi sembra che la pace sia un progetto umano e cioè che gli uomini siano in grado di costruire fra di loro, con le loro forze, con i loro mezzi creare appunto l'unità del genere umano, la fratellanza fra i popoli e quindi un mondo armonioso, bello, vivibile, ordinato senza bisogno di Dio. Questo dunque è il progetto umano della pace che comunque nasce il tempo che trova è un po' la costruzione di Babeli per quale motivo? Per il motivo che ha detto Gesù insomma senza di me non potete fare nulla però la Madonna va anche a fondo e ci dice che il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia cioè ovviamente la guerra non è soltanto quella delle armi è quella anche economica, è quella sociale è quella capillare che si vive nelle nazioni, nei gruppi contrapposti, nelle famiglie stesse e nelle comunità religiose stesse e forse nella chiesa stessa quindi c'è questa guerra questa inimicizia diffusa e la Madonna ha un'espressione che fa in un certo senso che si può rapprivedere questo odio, questa gelosia, questa invidia questa rapacità, questa cattiveria si vede negli occhi è una notazione molto vera perché comunque anche la saggezza dei popoli aveva coniato questo proverbio cioè che gli occhi sono lo specchio nell'anima per cui se un cuore è puro è un cuore buono un cuore mite un cuore gioioso lo si vede negli occhi lo si vede nel volto invece, cari amici se un cuore è pieno di odio di gelosia di rapacità di cattiveria di astuzia di imbroglio di inganno lo si vede nel volto mi viene in mente una frase di Dante quando, passando per l'inferno descrive Cesare Cesare è armato con gli occhi grifani noi abbiamo veramente molte volte gli occhi grifani comunque gli occhi cattivi gli occhi scuri e questa notazione è molto importante cari amici ora non bisogna ovviamente cadere nei facili giudizi ma sicuramente cari amici gli occhi di una persona manifestano molto di quello che ha nell'anima gli occhi sfuggenti gli occhi scuri gli occhi cattivi gli occhi di quelli che ingannano come diceva anche non so quale autore non so se religioso oppure romanziere che dice appunto che l'anticristo avrà un volto splendente mi sembra la Valtorta o forse Fulton Sheen l'anticristo avrà un volto splendente seducente ma avrà gli occhi gelidi di uno che guarda nel vuoto per dire no come sono importanti gli occhi e la Madonna dice che il mondo non può avere la pace per semplice ragione che c'è dentro di sé i germi del male i germi dell'invidia i germi della guerra i germi della gelosia i germi dell'odio i germi della prepotenza i germi dell'inganno sono dentro di noi e questo lo dice Gesù che quello che è dentro dell'uomo che uscendo inquina l'uomo e li fa l'elenco di tutti i vizi di tutti i peccati cari amici per cui la Madonna ci dice guardate figlioli che il vostro progetto che è in atto adesso cioè vi dico quello che è sottinteso perché la Madonna più che criticare preferisce presentare più che diciamo criticare la via sbagliata che pure la indica no quando parla del cuore che è un grovillo di vipere ma in genere lei si sofferma sulla indicando la via buona però la Madonna ci vuol dire figlioli questo vostro pretesa di costruire la pace fra gli uomini dicendo ma sì ma guardate dobbiamo essere tutti uniti volerci tutti bene accogliamoci nella nostra diversità perché tanto abbiamo una casa comune che è la terra e noi siamo tutti fratelli dobbiamo fratellarci tutti fra di noi e formare un'unica famiglia eccetera questo è il progetto della pace mondiale di chi non crede è il progetto anticristico della pace ma che possibilità ha questo progetto nessuna possibilità perché è un progetto che elimina il re della pace che è Gesù Cristo gli uomini vogliono essere noi i padroni cioè veniamo abbiamo le spalle la festa di Cristo ora mi ha fatto pensare molto a questa festa e ho dedotto siamo nel tempo in cui gli uomini non ne vogliono sapere di avere Cristo re vogliono essere loro i re al posto di Cristo vogliono essere loro i padroni del mondo vogliono essere loro a governare il genere umano e allora hanno eliminato Gesù Cristo il re della pace avendo eliminato Gesù Cristo re della pace cosa vuol dire che costruiscono cari amici costruiranno la torre di Babele quello che la Madonna chiama il regno del peccato il regno del male e lo descrive con l'agitazione l'odio l'invidia la rabbia che balena negli occhi diciamo degli uomini che si sono fatti hanno fatto se stessi tempi del demonio tempi del demonio perché hanno eliminato Gesù Cristo quindi non è così dice la Madonna che si costruisce la pace lo dice lo dice lo fa capire quando parla appunto del mondo in guerra no allora per sui la pace dice la Madonna dovete cercare Gesù dice cercatelo pregate e dove cercatelo cercatelo nel vostro cuore è lì nel vostro cuore che voi dovete costruire la pace in questo tempo di avvento e prima di tutto con la preghiera con la preghiera il cuore si apre con la preghiera il cuore si apre è come un fiore che si apre al sole nella preghiera uno accoglie la luce vede il suo male vede il peccato vede la sua miseria la presenta a Dio perché lavi il suo cuore lo purifichi prepari perché Dio prepari stesso lui stesso la culla dove nascere in questo tempo di Natale e questo è il percorso che la Madonna ci dice di fare nel tempo di avvento nella preghiera cercare Gesù nel nostro cuore purificare il cuore attraverso la conversione attraverso la confessione ma voi avete mai provato a fare una bella confessione cari amici a rimettere a posto la vita dopodiché cosa sentite nel cuore sentite la pace sentite la gioia siete contenti e così poi andando alla messa di mezzanotte andando a messa nel giorno di Natale sentirete la gioia della presenza di Gesù bambino nel vostro cuore questa pace che è nel nostro cuore che è un dono di Dio ma nel medesimo tempo è anche l'apertura nostra al dono di Dio questa pace cari amici è il dono più prezioso il bene più grande che uno possa avere nella sua vita cioè quando uno in pace si frega le mani della gioia è proprio così è contento è sempre contento ma non con la contentezza ridanciana di chi ride sempre è una contentezza che ti esce dal cuore e si manifesta nella bontà degli occhi e nel sorriso perpetuo nel sorriso che non finisce mai perché perché dentro hai Dio la pace io sono la vostra pace cari amici allora anche se c'è una sola persona in una famiglia che ha questa pace riesce a salvare quella famiglia attraverso il perdono attraverso la riconciliazione attraverso il dialogo attraverso la preghiera e così la pace passa dai cuori alle famiglie delle famiglie passa nella società si diffonde come un fiume benefico la pace per cui la Madonna tante volte ha detto la pace incomincia nel cuore accogliendo il re della pace poi la pace va nelle famiglie e poi scorre come un fiume in tutto il mondo non c'è altro modo per costruire un mondo di pace che è quello di accogliere il re della pace quindi è inutile che andiamo in giro con i programi dei vari organismi internazionali eccetera per carità qualcosa fanno ma in realtà cari amici il risultato è questo che nel mondo il mondo è in guerra e perché è in guerra? perché è inutile fare i proclami di ogni genere specie quando i cuori sono pieni di odio di gelosia ma perché i cuori sono pieni di odio di gelosia di cattiveria di inganni è perché cari amici sono abitati dal demonio per cambiare il mondo bisogna cambiare il cuore per cambiare il cuore bisogna lo sfrento dal demonio ricevere Gesù Cristo questo è il cristianesimo non si può cambiare nessuno può dire che si può avere la pace senza Gesù Cristo nel Natale del 2012 la Maria ebbe questa sorpresa che la Madonna non diede il messaggio ma nel momento del messaggio il bambino che aveva in braccio si è alzato e con un tono solenne quasi fosse un adulto ha detto io sono il re della pace vivete i miei comandamenti ecco cari amici accogliamo questo messaggio di Gesù io sono il re della pace io sono la vostra pace io vi porto la pace nei vostri cuori nelle vostre famiglie nel mondo intero purché mi accogliate ecco noi dobbiamo essere quelli come i pastori di Betlemme come i magi che accolgono il re della pace e portano la sua pace e la sua luce a tutti quelli che non lo conoscono e così cari amici adesso camminiamoci lungo il cammino di Natale nella gioia e nella speranza e nella volontà di riannodare una stretta intima amicizia con Gesù per mezzo di Maria rileggiamo il messaggio cari figli questo tempo sia per voi il tempo della preghiera senza Dio non avete la pace perciò figlioli pregate per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie affinché Gesù possa nascere in voi cioè a Natale Gesù deve nascere in noi e darvi il suo amore e la sua benedizione il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia figlioli l'inquietudine si vede negli occhi perché non avete permesso a Gesù di nascere nella vostra vita deve nascere nella vostra vita facciamola entrare è il Natale di chi? è il Natale di Gesù il re della pace facciamo la festa e non sappiamo che è festeggiato cercatelo pregate e lui ci donerà a voi nel bambino che è la gioia e la pace io sono con voi e prego per voi grazie per aver risposto alla mia chiamata cari amici come dovremmo essere grati alla Madonna che ci segue che ci indica la via che ci illumina che ci protegge in questo tempo di tenebre in questo tempo di serpenti in questo tempo di tradimenti cari amici la Madonna è qui perché dovremmo essere le pecorelle fedeli che seguono il buon pastore che è Gesù che ci sono le pecorelle fedeli